La differenza fra il Paglio dei Braceri 2022 e i nove che l'hanno preceduto è stata senz'altro l'aroma di uovo sodo e maionese che ha ammantato Piazzale Matteotti e Rocca Costanza. Già, perché per quattro giorni il decimo Paglio dei Braceri è stato abbinato al terzo festival della pizza Rossini. Centinaia di pesaresi hanno assaporato la più celebre pizza della città, altre tanti turisti l'hanno scoperta in una manifestazione che ha sfornato 3.000 pizze grazie alle fatiche dello staff del ristorante C'era una volta che ha vinto anche la gara per la miglior pizza Rossini al piatto della città. Il segreto è avere una famiglia alle spalle meravigliosa che ha fatto un lavoro fantastico, una pizza fantastica e mi ha insegnato a me e mio cugino a dare il massimo tutti i giorni. Soddisfattissimo del premio e la festa sta andando benissimo e ovviamente è difficile perché quando arrivano centinaia e centinaia di persone tutte insieme è impossibile riuscire a dare la pista in dieci minuti. Siamo partiti molto bene, dieci minuti, quindici, adesso il tempo purtroppo è salito e però comunque la gente sta facendo i complimenti, almeno quello purtroppo c'è un po' di tempo da aspettare però la festa in generale è bellissima e soprattutto la Rossini sta andando veramente molto forte. Il C'era una volta vince per la miglior Rossini da cena, la pizzeria Tony vince come miglior pizza al taglio mentre il bar Zucchero a Velo di Villa Fastigi ha vinto il premio come miglior pizzetta Rossini da colazione. E poi ancora Filippo Roberti ha vinto per la miglior pizza Rossini fatta in casa e Luis Spogiali ha vinto il premio divoratore di Rossini con dieci pizzette ingurgitate in dieci minuti. Insomma un abbinamento al palio da pollice in su. Quattro giorni ho mangiato la pizza Rossini a colazione, a pranzo, a cena e sto da Dio. Ciao a tutti e grazie a tutti.